Oltre un chilo di cocaina pronta per il taglio è quanto i carabinieri della stazione di Napoli Stella hanno trovato a Napoli, nel quartiere Stella, durante una perquisizione nell'abitazione di Raffaele Manzo, 50 tene del posto già noto alle forze dell'ordine. Nello specifico i militari hanno sequestrato un chilo e 400 grammi di cocaina divisa in 10 involucri. Un bottino importante è considerato il costo e il peso della sostanza ancora da tagliare e dosare. Oltre alla droga rinvenuto anche materiale per il confezionamento e una macchina per il sottovuoto. Manzo è ora in carcere per detenzione di droga ai fini di spaccio in attesa di giudizio.